Primo giorno di scuola per 28.000 studenti fiorentini nelle scuole comunali, fino cioè alle superiori di primo grado. 5.953 sono entrate in classe per la prima volta. Quanto alle scuole superiori, sono 43.521 gli studenti del territorio metropolitano. Nel comune di Firenze, circa il 20% degli studenti, in media, è straniero. Una percentuale aumentata rispetto a 5 anni fa, ma stabile se paragonata allo scorso anno. L'augurio è di poter avere una scuola che non solo gli dia la possibilità di apprendere, di avere quegli elementi di conoscenza, ma che possa diventare anche una scuola di vita. E proprio per questo noi stiamo cercando di mandare anche segnali che vanno al di là di questo. Mi viene da pensare alla proposta che abbiamo lanciato dello Iuscole, perché i ragazzi nelle nostre scuole sono tutti uguali, sono tutti cittadini e noi vogliamo dare risposte a tutti loro. Inizieremo un percorso con il nostro Consiglio Comunale e con le scuole per arrivare a dare la cittadinanza onoraria e fare in modo che la scuola diventi sempre di più quella palestra di educazione civica che è fondamentale. Due le scuole visitate questa mattina dalla Sindaca di Firenze, entrambe interessate da lavori di messa in sicurezza o di inaugurazione di nuovi plessi. Quanto agli investimenti, sono circa 12,5 milioni di euro dei lavori estivi nelle scuole comunali, mentre lavori per altri 16 milioni e mezzo verranno ultimati entro l'anno. Per quanto riguarda il traffico, la città ha retto tutto sommato bene allo stress test del primo giorno di scuola grazie anche all'interruzione dei cantieri più importanti, ad esempio quelli della tranvia, e a un dispiegamento di forze della Polizia Municipale che andrà avanti anche nei prossimi giorni per poi essere adattato alle esigenze del traffico.